buongiorno e benvenuti da borsari strumenti musicali oggi abbiamo realizzato questo video per vedere e scoprire insieme come si monta il pianoforte digitale cabinet tecnopiano tc 300p questo è il suo imballo ok dopo aver rimosso chiaramente il nastro adesivo su tutti i lati andiamo ad aprire troviamo una copertura di cartone che possiamo tranquillamente togliere e poi abbiamo i due fianchetti laterali dalla parte dei piedini è la parte dove poi andrà appoggiata per terra una destra e una a sinistra adesso li andiamo a togliere entrambi poi troviamo il cavo di alimentazione il manuale in italiano il sacchettino con tutte le viti poi vedrete nel dettaglio come le ho suddivise la barra dei pedali dove c'è il cavettino di collegamento con la fascettina tipo pane da toste che andrà aperta dopodiché abbiamo il blocco pianoforte e qui c'è anche l'alimentatore quindi abbiamo tirato fuori quasi tutto questo è fatto molto bene con degli incassi molto facili poi sotto il pianoforte vi faccio giusto vedere ecco abbiamo anche la barra di congiunzione adesso vi faccio vedere come andremo a montare il tutto perfetto passiamo allora adesso al montaggio dei fianchetti laterali alla barra che sono la prima cosa che dovrete montare si usano le viti che ce ne abbiamo cinque ma quelle che useremo sono quattro e ne abbiamo una di scorta nel caso in cui la dovessimo perdere allora andiamo a mettere vedete i due buchi che corrispondono a questi due buchi vado a inserire la prima vite la in punto in punto la seconda vite io adesso uso un avvitatore ma voi potete tranquillamente usare anche un cacciaviglia crosse normale ecco ecco una volta che avete avvitato le due viti dovrete semplicemente andare a mettere i due tappetini di plastica uno da una parte e uno dall'altra ora procediamo con la stessa operazione dell'altro fianchetto esattamente con la stessa tecnica tecnica perfetto devo dirvi comunque che anche il mobile è progettato molto bene nel senso che è di una semplicità veramente unica ed è anche molto stabile come materiale ora procediamo con le viti invece quelle diciamo autofillettanti che sono quelle a punta da legno iniziamo ad inserire la vite direttamente quando ci sono i buchi chiaramente questa operazione se la fate in due è sicuramente più facile perché riuscirete meglio ad azzeccare il buco che io adesso qua da solo non vedo ma cercherò di riuscire ecco ho impuntato la prima vite impunto una di qua e ne impunto una dall'altra parte e poi dopo procederò tranquillamente alla vitatura ecco avvitiamo la vite e due come vedete è davvero molto molto semplice anche in questo caso abbiamo avvitato le quattro viti e andiamo a mettere i tappetini che vanno a far sparire il brutto dei buchi ora non ci rimarrà altro che appoggiare sopra il pianoforte che si incastrerà nei quattro piedini e avvitare le ultime due viti per tenere il pianoforte e attaccare l'attacco pedali ora ve lo faccio vedere perfetto adesso il pianoforte è montato lo abbiamo appoggiato sopra e abbiamo avvitato le ultime due viti a farfalla ultima cosa da fare ci sono tre strisce adesive che vanno attaccate in corrispondenza si parte la prima striscia si parte dal primo do e che arriva al fa la seconda striscia parte dal fa della quarta ottava e la terza striscia parte dal sol della quinta ottava e si attacca qua esattamente come vedete guardate bene il video così le potete attaccare bene sul manuale c'è scritto ma è scritto molto molto in piccolo ecco ultima precisazione il cavo dei pedali che viene attaccato qua sotto quindi si è staccato dai sotto viene attaccato centralmente può capitare che in alcuni lotti di produzione questo cavo come indicato nel manuale potrebbe essere qua quindi sotto nella parte destra con un cavo leggermente più grosso questo dipende dal lotto di produzione dello strumento in ogni caso o si attacca qua o si attacca qua e basta direi che a questo punto non ci tocca altro che attaccare il suo cavo di corrente che ha la sua spina in questo modo questo va attaccato esattamente qua dove c'è ingresso a 15 volt e attacchiamo la presa e tante buone suonate io vi ringrazio di avermi ascoltato spero che questo video vi sia utile al montaggio del vostro strumento e vi invito a iscrivervi al nostro canale youtube e vi ricordo che siamo da borsare strumenti musicali Rotondo Torri a Bologna grazie e a presto ciao ciao